Ciao a tutte ragazze, sono tornata dalla mia vacanza, a giorni riaprirò la pagina facebook, controllerò tutti i video per il contest e quando sarà finito, dopo qualche giorno probabilmente, dirò il vincitore. Comunque adesso voglio farvi vedere gli stampi che mi sono arrivati mentre ero via. Sto facendo il video di sera, quindi la luce del giorno non esiste e c'è solo la luce al neon sopra, che è luce fredda, quindi in teoria dovrebbe vedersi bene. Fatemi sapere comunque come è la luce. Adesso vi faccio vedere direttamente. Allora, non mi ricordo bene neanche cosa ho comprato, come al solito, perché passa un sacco di tempo. Wow, allora, calma e sangue freddo. Ordinato. Partiamo da questi. Questo è un poro. È di League of Legends, uno dei giochi online che mi piacciono di più. Scusate, ho qualcosa in gola. Lo adoro, è troppo puccioso. E niente, vi faccio vedere un'immagine di un poro, giusto per farvi capire come dovrebbe essere. Questo lo adoro. È anche un po' più piccolino di quel che mi immaginassi, meno male, perché l'avevo visto, mi sembrava enorme, però ho detto, vabbè, è bellissimo, lo voglio, invece è perfetto. Poi, quest'altro fatto in modo simile, con i dettagli a rilievo, è un cricetino, è carinissimo, ha il naso a forma di cuore. È troppo puccioso. Poi, queste due barrette di cioccolato sono veramente molto carine. E le vedo spesso nelle cover e ci stanno veramente da Dio. Fatte con i colori pastello sono stupende. Poi, io avevo comprato... Com'era? Penso che la palette nell'immagine fosse così. C'erano solo questi. E quindi lei mi ha regalato una valanga di cuori. Questo è un cuore fatto con le costone. Poi ci sono tanti cuori ciccioni. Ciccioni, sì, è vero, perché sono proprio ciccioni. Poi questo è più ciccione largo. Questo ha il filo spinato. Questo ha questi pallini intorno. E questo, in realtà, è quello che mi interessa di più. È un po' cicciotto, ma semplice. Non esageratamente cicciotto, ecco. E niente, mille e mila cuori. E in più, visto che lei fa sempre gli omaggi, non pensavo mi mandasse anche tutti questi cuori, lei avevo chiesto, visto che non lo trovavo in vendita da solo, se si poteva avere questo, che sarebbe di Sailor Moon ed è la spilla di Sailor Kibiusa. Era l'unica che non avevo. E appunto volevo chiedere di mandarmi questa separatamente. Invece alla fine mi ha mandato anche questa. E, oh mio Dio, ora che ci penso? Io non ce l'ho questo. E lei me l'ha mandato in omaggio, sono una pirla, perché non me lo ricordavo proprio, che mi mancava anche questa. E tra l'altro è, è tipo quella che mi piace di più. Non so come ho potuto dimenticarlo. Fatto sta che, niente, adesso ho proprio tutte le spille, questa ce l'ho doppio, uguale. E niente, è stata gentilissima. Lei è sempre molto gentile, manda sempre molti omaggi. Ah, mi sono dimenticata di dire, li ho comprati su Rockstar Hottie, come in molti altri stampi che ho fatto vedere nei video. Vi metto, come sempre, il link per la sua pagina, per i suoi negozi online nella descrizione del video qui sotto. Aiuto quanto sto parlando veloce stasera. Più del solito. Vabbè, comunque non vedo l'ora di provarli. Presto, appunto, li preverò. Non riesco a parlare, yeah! E niente. Io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Ciao!